salve cari amiche ed amici di youtube qui ancora una volta state assieme al vostro saint jean per un nuovo tutorial di elettronica io infatti adesso voglio fare un video comparativo quindi compare comparerò perché comparerò due cellulari della motorola per vedere a raffronto quali qualità hanno quali pregi e quali distretti quindi vanno alle ciance in 321 il tema del giorno ma del giorno motorola c 350 versus motorola moto in seconda generazione partiamo col tutorial dicevo e quindi partiamo col cellulare questo è il cellulare del giorno beh tanto del giorno come potrete vedere e il mitico perché molti di voi non l'avranno avuto motorola c 350 notate il design volutamente minimalista ultramoderno ultra essenziale sempre i cellulari motorola hanno avuto il logo della m è una costante chiaro motorola inizia con m non è chiaramente il cellulare di mussolini benito mussolini anche se anche lui aveva una m e questo ne ha due di m anche una davanti tanto per non lasciare dubbi circa di quale marca sia questo cellulare cia 2m e quindi adesso vi presenterò questo cellulare mia madre me l'ha regalato per gennaio 2004 è uscito nel 2003 gennaio 2003 quindi me l'ha regalato un anno dalla sua uscita già ho fatto un altro tutorial parlando di questo cellulare quindi non entreremo molto nei dettagli e quindi adesso passo ad illustrarvi l'altro termine della comparazione se una comparazione è impossibile sarà sempre un cellulare di casa motorola tatan moto it seconda generazione perché è il motorola moto it del 2014 la versione migliorata del primo moto it del 2013 adesso siccome io ricco il cellulare col quale mi sto filmando non posso aprire beh vediamo ci provo sì a che bello che bella confezione fino a un certo punto se ce la faccio no non ce la faccio un momento confezione alquanto sobria non è particolarmente e saltante però è bella soprattutto perché chi se ne frega come è fatta la scatola se minimalista o no perché il cellulare è meglio della scatola cioè se la scatola fosse meglio del cellulare costerebbe di meno cellulare invece quando la scatola vale meno del cellulare vuol dire che si sono spessi di più sul cellulare d'altra parte io compro non la scatola per il cellulare ma il cellulare per il cellulare non compro neanche il cellulare per tenermi la scatola a meno che non lo regalerei a qualcuno allora mi tengo la scatola non so però ecco la scatola la conserverò soltanto se devo cambiare il cellulare che c'è dei problemi spero di no a questo punto come cantava qualcuno con le mani solo con le mani la 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 qua ci abbiamo innanzitutto il cellulare il nostro motorola moto it seconda generazione poi è bella questa scatolina che si apre così e qua ci abbiamo i manuali qua ci abbiamo l'alimentatore della batteria qua il cavo usb peccato che non ha una entrata per la corrente a parte dall usb perché se si rompe usb poi non si alimenta più e qua ci abbiamo la chiavetta che come si vede nell'illustrazione per mettere la micro sim cosa interessante del cellulare di questi cellulari di questi tempi e che funzionano anche senza micro sim io in pratica siccome c'è già un vecchio cellulare che il galaxy young 53 60 non ho bisogno di un'altra linea telefonica quindi uso con il wifi il cellulare e funziona lo stesso anche se non posso fare chiamate telefoniche o navigare in 3g o 4g perché a me non me ne frega di avere da pagare beh vogliamo vedere i manuali vediamoli al contrario di altri cellulari questo porta un manuale che è molto completo anche se ci dice cose che noi già conosciamo forse perché per spiegarle agli utenti principianti cioè come navigare queste cose qua poi lo stesso manuale c'è delle spiegazioni dentro e poi vabbè c'è manuale di avvertenze e queste cose qua di seguire i consigli anche ad onor del vero bisogna dire che il manuale del motorola c 350 del 2003 era voluminoso molto più grande molto più grande del foglio del manuale in foglio del motorola moto it seconda generazione io non so perché 230 pagine circa incredibile ci sono più di 30 pagine su come inviare i vari sms su come navigare con il brown swear di questo cellulare ci sono delle cose così banali e ovvie scritte qua 230 pagine per il motorola c 350 è un foglio di 15 centimetri per il motorola it's moto it seconda generazione secondo voi non avrebbero dovuto scrivere un manuale dieci volte più grande di questo per il motorola moto it seconda generazione 2014 è un mistero vabbè che a noi non ce ne frega neanche svelare ma adesso passiamo alla confrontazione lotta fra giganti ecco il motorola moto it seconda generazione il bellissimo flash doppio nell'anello trasparente intorno alla camera il logo di motorola come sempre presente però questa volta solo uno è un bello schermo full hd adesso come molti video comparativi vediamo il tempo di accensione sempre il logo di motorola ecco come potrete vedere incredibilmente questo è lento adesso perché sta cercando il network e poi bisognerebbe programmarlo però in effetti si è avviato prima succede che cercava il network perché c'è una sim che è scaduta quindi due o tre o quattro secondi prima era pronto il motoro il motorola c 350 ha vinto la semplicità invece il motorola moto it seconda generazione non era ancora pronto cioè due o tre o quattro secondi prima ha accesso questo adesso vediamo il sistema operativo andiamo a vedere settings vediamo un po che mi sono scordato dove si trovano non è qua sarà qua beh è difficile cercare le caratteristiche di questo cellulare io ho già mi sono scordato come si usa quasi c'è addirittura il settaggio per la macchina e per le cuffie della testa però come vedete è un menù essenziale fluido che bisogna schiacciare bene i bottoni però diciamo che che si fa sentire questo menù contestuale chissà quanti di voi non erano nati quando c'era questo cellulare veramente ecco qua phone status modello information ecco qua sono riuscito ad entrare nel menu giusto non so neanche come se lo dovessi rifare allora la versione flex è questa qua deve essere il sistema operativo la tecnologia gsm 19 850 e la 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 frequenza dice la versione s w e questa c 350 che il modello del cellulare g 09 eccetera eccetera la ds version questa qua un'altra versione language list c'ha tre idiomi ma non ti dice quali una lingua la lista dei linguaggi data ready ah sì è pronto per la data per il bronzer si insomma avete capito questo è tutto quello che si sa sulla versione del cellulare il sistema operativo gs 6 c 350 un farla off c molto chiaro tanto poi che ce ne facciamo il sistema operativo invece questo cellulare incredibile perché il venditore mi ha detto che veniva con kit kat invece con grande sorpresa come voi grandi esperti intenditori potrete osservare il menu contestuale bianco sfondo bianco vedete numero modello moto in seconda generazione versione di android 5.1 quindi mi è già venuto con il 5.1 mi è venuto con lollipop l'ho comprato ieri quindi significa che già il motorola moto in seconda generazione viene con lollipop quindi aspetterò l'aggiornamento kit kat che dire che ho già installato instagram sprecher sun cloud marcia molto bene per esempio qua ci sono io che mi sto filmando molto bella la camera di sicuro meglio della camera del mio o meglio del cellulare che gli ho regalato a mia madre il nokia asha 302 col quale mi sto filmando a 3,2 megapixel formato vga però c'è anche un però che io ho scoperto che il menu di formati non ti dà molta scelta perché o registri con la camera davanti a 2 megapixel in scala wild screen 16 a 9 oppure registri a 1,6 megapixel in 4 a 3 non puoi scegliere una risoluzione minore e quindi è un peccato non tanto per la camera frontale quanto per la camera posteriore che è di 13 megapixel soltanto che puoi registrare e ti viene un video molto pesante il 9,7 megapixel a 16 a 9 quindi wild screen o standard con i 13 megapixel a 4 a 3 e quindi succede che in pratica credo che se tu filmi con 9,7 megapixel in scala 16 19 stai filmando 4k e quindi ti vengono dei video pesanti però non puoi scegliere un formato minore di 9,7 a 16,9 perdona 16 e 9 e non puoi scegliere un megapixel inferiori a 13 filmando a 4 3 cioè c'è solo queste due offerte per quello mi hanno ho letto internet che si possono scegliere delle camere addizionali per esempio la camera android per filmare a risoluzioni inferiori di quelle proposte dal cellulare magari in wide screen vuoi filmare a 5 megapixel e in standard vuoi filmare a in 3 megapixel o in 7 8 10 perché se fai dei video molto larghi poi pensano una cifra ed è difficile caricarli in youtube quindi vediamo poi un'altra cosa particolare che se deve devi fare una foto non è che c'è la selezione anche per la camera fotografica schiacciare schiacciare l'icono della filmatrice e filmi se invece devi fare una foto schiacciare lo schermo visto forse non si è sentito vediamo un po acqua mi sono fatto perché aumentando e diminuendo il volume dicevo vediamo un po adesso gli ho messo il volume di alto ecco qua in pratica in questo modo basta toccare lo schermo non devi selezionare un icono di camera fotografica invece se si schiaccia l'icono della filmatrice inizia a filmare e mi sembra che anche filma no fa foto se schiacci volume ecco ancora una volta andiamo a cancellare qua perché viene il mio palmo della mano però si schiacci il volume alto o basso scatta la foto naturalmente possiamo anche apprezzare possiamo apprezzare la risoluzione dello schermo si vede molto bene anche con un po di luce contro lo schermo del motorola moto it seconda generazione invece lo schermo del motorola c 350 non ha lo stesso splendore non so quanti pollici sia credo che sia mezzo pollice come molto anzi forse un quarto di pollice si può notare parte dello schermo sta occupato da dei comandi che poi selezionare però con i bottoni perché non ha un touchscreen e qua voi potete vedere che visto che vediamo dicevo visto che vediamo la perfezione dello schermo vediamo anche il mio instagram saint jean qua ho caricato molti molte foto ho avuto un tablet economico del quale ho fatto dei video l'euro case che adesso si è definitivamente rotto e non ho mai non sono mai riuscito a caricare un video un video in instagram con il tablet euro case e youtube 710 credo m di q però invece quali faccio vedere che ieri sera prima di dormire sono riuscito a caricare un video nel mio instagram il mio primo video che ho caricato ho fatto questa bella roba qua questo è stato il mio primo video che ho potuto caricare in instagram senza nessun problema e quindi grazie al motorola moto it seconda generazione non solo carico foto ma anche carico video per il momento visto che il tablet mi si era rotto ed è costato anche caro ma era economico caricavo foto con il mio vecchio e buon galaxy young 53 60 che mia madre mi ha regalato per il compleanno del 2013 gennaio me lo comprò in febbraio in realtà perché dovevamo cercarlo e che è uscito nel 2011 come cellulare che ancora funziona molto bene bellissimo però adesso posso caricare anche video di questa qualità poi adesso magari farò un altro tutorial magari no voi andate a guardare santa cian in instagram perché voglio caricare dei video con la la camera grandi a 13 megapixel poi le foto le fa incredibili quindi a chiedere carichero nuovo materiale in instagram per la gioia di tutte e tutti voi e non vi scordate di vedere i miei altri video in youtube quindi come dire ho fatto questo comparativo spero che sia piaciuto a me è piaciuto farlo soprattutto ne ho sentito la necessità perché di comparativi ne ne fanno tanti ma tutti prendendo in considerazione gli ultimi modelli certo io ho preso in considerazione il penultimo modello il motorola moto in seconda generazione perché ancora qui non è uscito quello di terza generazione e poi però invece ho preso in considerazione un modello che neanche né ultimo né penultimo è è stato un tutorial di lusso perché niente di meno che questa ciò che cade 2003 quindi come dire due pezzi grossi nella motorola che questo nel costato in comparazione a il moto it seconda generazione che troppo caro si sarebbe dovuto pagare di meno però ancora non si poteva fare il paragone quindi molti di voi avete visto un cellulare e 12 anni fa o 13 molti di voi che hanno 12 o 13 anni quando è uscito questo cellulare non erano nati e quindi come dire ce l'avevano i vostri genitori zio non è un pezzo di storia della telefonia mobile quindi ho sentito il dovere ho sentito il dovere di fare questa comparazione storica perché le origini non si scordano mai poi le origini di te comunque capito questo 12 o 13 anni fa 12 anni fa 2003 stiamo nel 2015 peccato che il motorola itz motorola moto itz terza generazione non è ancora uscito ma sarebbe ancora più caro del motorola moto itz seconda generazione con questo è tutto chiudo passo queste cose qua spero che il tutorial vi sia piaciuto la comparazione il match il confronto e più da magari parlerò più dettagliatamente delle cose che scoprirò del motorola moto itz seconda generazione 2014 per adesso tutto vi lascio grazie di seguirmi grazie di seguirmi nei miei tutorial che ho fatto fino adesso e poi parlerò di altri temi perché non faccio tanti tutorial vi faccio essenziali con questo che nessuno ha mai fatto un comparativo leggeri allora grazie di tutto arrivederci ciao il vostro sente già e non lasciate di seguirmi niente niente touch sensitive touch sensitive la magia del nuovo cellulare non ho nessuna notificazione quindi non la mostra ma basta fare così invece questo zero manco si illumina vabbè questa è un'altra cosa che ho scoperto adesso non che il motorola moto itz seconda generazione faccia questo e che prima quando avevo questo cellulare non mi sarei mai chiesto se lo poteva fare anche perché a che serve in questo cellulare vabbè scherzi a parte ciao grazie a tutti